eccoci qui amici rossoneri ben ritrovati come sempre all'inizio di ogni video ve lo ricordo iscrivetevi in questa zona attivate la campanella e lasciate un like per questo bel contenuto firmato daniele longo collega amico di calciomercato.com esperto ai massimi livelli di calciomercato il re del mercato di quest'estate 2021 dove c'è un diritto di riscatto daniele longo c'è dove c'è un rilancio daniele longo c'è dove c'è un abboccamento un sondaggio daniele longo c'è allora lui ci spiegherà il mercato del minano a 360 gradi con riscatti acquisti cessioni insomma di tutto e di più grazie mille a daniele per il contributo andate a seguirlo anche oltre che su calciomercato.com sui suoi social dove anticipa spesso delle notizie importanti di milan grazie daniele iscrivetevi lo ricordo ancora a te spiegaci il mercato del milan daniele a che punto siamo so che sono ore comunque franetiche a te ben ritrovati amici di milanello un particolare in particolare al ad andrea longoni che ringrazio per l'invito siamo qui per parlare un po di quelle che potrebbero essere le strategie del milan nelle prossime settimane il milan che vuole rinforzare la rosa ma che dovrà per forza di cose metabolizzare quello che è stato un tradimento consumato da canciaranoglu che ha deciso di sposa all'inter per i prossimi tre anni il milan si sta muovendo per cercare un'alternativa un rimpiazzo anzi non un'alternativa un rimpiazzo di qualità al trequartista turco diverse opzioni sono sul tavolo di massare maldini difficile se non impossibile quella che porta a pessina nonostante il milan vanti il 50 per cento sulla futura rivente abbiamo scoperto che l'atalanta non ha intenzione di cedere il suo gioiello che sta brillando anche nel nell'europeo ma ci sono anche altri obiettivi in casa tra tanti giocatori molto graditi tra le fili da nero azzurre il primo è ruslan marinovski un obiettivo difficile perché l'atalanta sappiamo essere una bottega molto cara quindi la valutazione è altissima in ton superiore ai 30 milioni di euro ma è un interessamento che va registrato e vi raccontiamo qui proprio su milanello un'altra pista porta josepili che c'è naturalmente non è la prima nella gerarchia nella classifica di massare maldini attenzione a quelli che potrebbero essere poi le opzioni o comunque le possibilità le opportunità di mercato che possono arrivare dalle big europee ad esempio una potrebbe essere a kim zia che più last minute perché mina sta parlando con il suo agente ha registrato la volontà di lasciare londra ma potrebbe prenderlo solo in prestito quindi un'operazione eventualmente da posticipare alle prossime settimane ma attenzione anche ai discorsi con il real madrid con il barcellona ci sono diverse situazioni da tenere ben monitorate che il milan vuole approfondire con il real madrid invece si sta parlando si sta arrivando a un accordo totale definitivo per brain diaz operazione ormai in dirittura d'arrivo ma c'è ancora un po di distanza insomma sulla cifra perché il milan vuole chiudere l'operazione a 20 milioni di euro il real madrid a 25 l'operazione comunque si chiuderà in pressio con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del dei blancos fondamentale per il buon estito dell'operazione sicuramente sono stati rapporti tra maldini e ancerotti il tecnico di reggiolo ha dato il suo assenso alla cessione di brain diaz io credo che già in questa settimana può arrivare la fumata bianca definitiva e quindi pioli potrà riabbracciare quello che è stato un giocatore fondamentale per l'arrivo per il ritorno in champions league soprattutto nelle ultime partite in particolar modo con la rete bellissima allo juventus all'allianz contro la juventus attenzione poi anche a quelli che possono essere i movimenti in uscita perché il milan attende nuove dal da corke mendes per raffaele au non è un giocatore messo sul mercato ma il milan è pronta ad ascoltare eventuali nuove proposte piace molto al volverempton piace molto all'everton piace molto anche al borussia d'ortum dall'olimpic marsiglia il milan ascolterebbe offerte superiori ai 28 milioni di euro chiaramente con la scuola con la possibile cessione di raffaele au il milan avrebbe ancora più forza per arrivare poi all'obiettivo di rinforzare la batteria degli attaccanti in attesa che si sblocchi l'operazione girù ormai l'accordo è definito per un biennale da 4 milioni di euro a stagione il milan è in fase di attesa perché appunto aspetta segnali da londra in particolar modo dai suoi agenti affinché il celsi mantenga la promessa di liberare l'esperto attaccante francese a parametro zero dietro un'offerta di un club estero quindi di una premier league ma ci sono anche altri nomi sul profilo può tornare di moda il gallo belotti non ha chiuso con la roma la prima offerta giallo rossa al torino è stata rifiutata perché era di 18 milioni di euro più bonus per arrivare fino a 22 cairo chiede ancora 30 milioni di euro non escludiamo dalla lista belotti non escludiamo anche gli aremi del del gento un profilo che piace molto ma sicuramente in questo momento non è una prima scelta l'idea del milan è prendere un attaccante di esperienze individuato in olivia e girù e magari un giovane di ottime prospettive che possa alternarsi anche con i due totem che sarebbero zlatan ibrahimovic appunto e l'attaccante attualmente in forza al celsi ci sono anche i movimenti per quanto riguarda il ruolo di centrocampista centrale piace molto bubacar camara del marsiglia è stato proposto più che altro che francese ma una valutazione importante nonostante un contratto in scadenza nel 2022 in lista ci sono anche scouten e svomberg del bologna ci sono anche va avanti la trattativa e credo che verrà conclusa in questa settimana per sandro tonali quindi la batteria dei centrocampisti della prossima soggio di mina dovrà essere composta da cinque elementi ben asser che si tonali e il mina lavorerà molto attentamente alla ricerca di due profili da inserire nella rosa di stefano chiudiamo questa parentesi molto dettagliata speriamo sia stata molto dettagliata anche con i rinnovi dei contratti il mina comunque è uscito anche un po scottato nonostante la linea sia stata condivisa sia dalla dirigenza sia dalla proprietà e in parte anche dai tifosi che hanno capito quelle che sono state le idee del mina perché è stata portata avanti una linea così dura nei confronti degli agenti o comunque delle trattative per donnarumma entrambi hanno sicuramente causato un danno economico e tecnico al mino impressionante però si è portata avanti una linea della coerenza linea che comunque verrà portata avanti appunto anche per gli altri dossier che sono sulla scrivania di massare maldini appunto a casa milan con un'eccezione perché per franche si da quello che abbiamo capito si cercherà in tutti i modi di arrivare un accordo accontentando il centrocampista boriano che ha chiesto un contratto vicino ai 6 milioni di euro da circa 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 5,5 appunto milioni di euro circa circa mi ero un po incantato su questa cifra importante che il milan cercherà di raggiungere nei prossimi incontri che si dovrebbe rinnovare il contratto per altre quattro stagioni è uno stodo cruciale per i progetti per la credibilità di un progetto appunto quello rosso nero che non può prescindere da chi da un centrocampista migliore dell'ultima stagione in serie a e soprattutto trascinatore sia in campo che nello spogliatoio con golle soprattutto con una crescita tecnica tattica e mentale impressionante rispetto a quanto fatto vedere solo 12 mesi fa per quanto riguarda davide calabria c'è ancora un po di distanza il giocatore chiede 2,5 milioni il milan è arrivato a 2 vuole un contratto più corto rispetto ai quattro anni proposti dal milan vedremo ma credo che anche in questo caso arriverà la fumata bianca e si sta iniziando a ragionare anche per i rinnovi di contratto di simon chier quindi allungare di una stagione l'attuale scadenza mentre per quanto riguarda adesso romagnoli ancora non si registrano particolari passi avanti il giocatore non sta puntando i piedi per andare via stava votando tutto tutto insieme al suo agente mino raiola che non ha ancora iniziato una vera e propria trattativa con il milan non è detto che questo arrivi io credo che l'opzione più probabile ad oggi sia quella di una cessione onde evitare di perdere il capitano delle ultime stagioni a parametro zero solo fra 12 mesi è stato un piacere stare con voi vi raccomando rimanete sempre sintonizzati su milanello del mio amico andrea longoni per tutte le ultime da casa milan sul mercato e su tutte le vicende del mondo rosso nero un saluto da daniele longo e allora grazie a daniele longo che ci ha spiegato il mercato del milan anche in questa nuova veste grafica che spero sia stata di vostro gradimento vi mando un caro saluto e che dire ci vediamo presto iscrivetevi in questa zona lasciate tanti like qui sotto forza minano oggi più che mai domani ancora di più come diciamo sempre e che sia un buon mercato ciao grazie ancora daniele